Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio disposto dalla Comando Gruppo Carabinieri di Locri, effettuati attraverso le compagnie di Bianco, Locri e Roccialla Ionica, finalizzati alla repressione dei reati attinenti le armi e gli stupefacenti. Le zone maggiormente attenzionate, in questo caso, sono state quelle aspromontane e preaspromontane dei comuni richiedenti nella cosiddetta vallata del Buon Amico. Nell'ambito di tale attività, tra i comuni di San Luca e Bovalino, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bianco e Bovalino, unitamente ai colleghi dello squadrone e li portato cacciatori di Vibo, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una vasta piantagione costituita da oltre 4.500 piante di cannabis indica, dall'altezza variabile tra un metro e un metro e mezzo. La piantagione, ben occultata all'interno della fitta vegetazione, in località mortella di Bovalino e al ridosso del centro abitato, era dotato di un impianto di irrigazione a goccia che consentiva il costante apporto di acqua alle piante, ormai rigogliose e pronte per essere tagliate, per poi essere essiccate per la produzione di marijuana. Nella circostanza, i militari, come disposto dall'autorità giudiziaria, hanno così provveduto all'estirpazione e alla distruzione della coltivazione, non prima di aver proceduto alla campionatura del Cuneo Arbusti per le successive analisi di laboratorio, che permetteranno di stabilire con maggior certezza la qualità del prodotto, che, da una prima stima, avrebbe fruttato una volta in messa sul mercato oltre 500.000 euro. Nell'ambito della stessa attività di controllo, tra alcuni rovi posti al confine del campo, i carabinieri hanno rinvenuto sei fucili da caccia, di cui tre di fabbricazione artigianale, tutti con matricola punzonata, in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionanti, che sono stati sottoposti a sequestro in attesa dei successivi accertamenti.